All'interno di questo corso l'approccio multidisciplinare è stato molto utile e forse alla base di ogni di ogni lezione che è stata svolta. L'integrazione di figure come psicologi, fisioterapisti, nutrizionisti, insomma la presenza di altre figure ha dato qualcosa alla professione dell'osteopatia. Mi ha anche fatto capire che il lavoro di equip, quindi il lavoro di squadra ognuno all'interno del proprio campo può essere risolutivo in alcuni casi o comunque apportare un beneficio alle problematiche dei pazienti. La differenza di questo corso rispetto a corsi frequentati precedentemente è il grande focus su quelle che sono le capacità comunicative rispetto a quelle che possono essere le nozioni o le abilità prettamente tecniche. È un corso che arricchisce tanto la professionalità perché appunto dà delle riflessioni che non spesso vengono troppo valutate in contesti scolastici ma è appunto un corso che dà una formazione in più al di fuori delle scuole che si frequentano. Si va molto più sul dettaglio e si cerca di spronare a una crescita terapeutica che poi si riscontra inevitabilmente anche durante la pratica clinica.